Giovedì 21 marzo 2019, il sole oggi è entrato nell'ariete, ieri sera alle 22.58. Ci troviamo ai piedi della meridiana di Piazza San Pietro, la meridiana che a mezzogiorno e venti circa segna il passaggio del sole al meridiano a sud. A 90 gradi della linea meridiana si svolge la linea dell'equatore, che in questo caso non è rappresentata da niente, perché Pietro Maccaranio nel 1817 costruì soltanto questa linea. Semita. Noi andiamo adesso perpendicolarmente a questa linea e troveremo l'ombra dell'obelisco che, obbediente alla legge dell'equatore celeste, ci attende esattamente qui. Eccola l'ombra dell'obelisco. andiamo a vedere. E' un po' Grazie.